Il totale dei decessi dall'inizio dell'epidemia sono 364. Nella giornata odierna si sono registrati 28 decessi di coronavirus di età media, 79 anni con il 97,5% di patologie pregresse, tranno un 75enne di Pesaro. Gli ultimi 437 tamponi esaminati nelle Marche hanno fatto emergere altri 82 casi di coronavirus, una percentuale inferiore rispetto alla precedente, 18,7% contro il 24,7%. Con questi ultimi contagi il numero complessivo di positivi nella regione sale a 3.196 su 9.060 test effettuati. Lo dicono i dati comunicati dal Gores. Sono infatti in corso nei laboratori Marche Nord e di Ascoli i test su altri 443 campioni. Il totale dei tamponi esaminati è 880. I ricoverati correlati a coronavirus sono finora 1.141, di cui 162 in terapia intensiva, 257 semi-intensiva, 513 reparti non intensivi e 209 in area post-critica. Tra i contagiati, 1.709 sono in isolamento domiciliare, in lieve rialzo guariti 10 e dimessi dagli ospedali 133. Sono invece 6.368 i non positivi isolati in casa, 1.562 con sintomi, tra i quali 647 operatori sanitari. Individuata la zona fieristica di Civitanova Marche come sede della nuova struttura di terapia intensiva da 100 postiletto delle Marche, per la quale era stata chiesta la consulenza di Guido Bertolaso. Ad annunciarlo il sindaco Fabrizio Ciarapica con un post su Facebook. Il consenso arriva anche da parte della consulente tecnica di Bertolaso, che dopo i sopralluoghi effettuati ad Ancona, che però non hanno dato esiti positivi, individua nella fiera di Civitanova Marche la struttura più adatta per allestire in pochi giorni un ospedale con 100 posti per fronteggiare l'emergenza Covid-19.